Con il telefonino. Lo strumento del Cenacolo Umanità e Movimento, Domenico P., emette il primo apporto orale durante una riunione in un centro di spiritualità. E' un rosario che si unirà agli altri due, fotografati qui di seguito. I tre rosari con accanto il telefonino, che è servito a riprenderli appena lo strumento ha dato i primi segni della trans. I rosari, su indicazione della guida fisica Enzo M., sono stati donati a persone diverse, non presenti, nel momento della materializzazione. Le persone non presenti erano quattro, tra di esse vi era una coppia, marito e moglie, che segue, attenzione, assiduamente, in diversi centri spirituali, le materializzazioni del tramite del Cenacolo Umanità e Movimento.